La prima commissione ha ascoltato in audizione l'assessore Antonio Baltolini per fare il punto sui precari della Regione Umbria e delle agenzie regionali. La Giunta, ha spiegato Baltolini, ha 56 contratti tra tempi determinati, co-co-co e staff degli assessori, di questi solo 40 con contratti superiori a tre anni di anzianità e quindi con titolo per eventuali procedure di stabilizzazione. La procedura prevede però di indire un concorso riservato per il 50% dei posti, quindi potendo mettere a concorso non più di 30 posti, solo 15 potrebbero essere ricoperti dai precari. L'assessore ha poi chiarito che l'Agenzia Umbria ricerche ha sette precari e tutti con i requisiti per l'eventuale stabilizzazione. L'Agenzia Forestale e l'Adiso hanno comunicato l'assenza di contratti di lavoro flessibili, mentre Villa Umbra ha sette collaboratori coordinati e l'Ater deve ancora comunicare la propria situazione. C'è poi la questione dei precari del terremoto, ha concluso Bartolini, che non è di competenza regionale visto che sono dipendenti comunali pagati con fondi regionali. Si tratta di 32 assunti a tempo determinato, di cui 26 hanno c'era Umbra, con alcuni contratti che partono dal 1998. La soluzione, ha concluso, dal punto di vista tecnico è molto complessa e la nostra ipotesi di formula e di lavoro flessibile è stata rifiutata.